E' dal 1953 che la provincia di Milano dedica alle persone che hanno dato lustro o hanno dato un insegnamento di vita a tutti noi sul proprio territorio, sul territorio della provincia di Milano naturalmente, dedica un premio della riconoscenza. Lo chiamiamo Premi Zimbardi perché questo è il palazzo intitolato alla famiglia Zimbardi dove ha sede la provincia di Milano. Il comune di Milano ha il suo ambroggino d'oro, la provincia di Milano ha il Premio Zimbardi. Il senso è però lo stesso, cioè dire grazie a coloro che con la loro vita, con il loro impegno, ma nei più diversi campi hanno dato un'indicazione di valore, di merito, di positività nella vita del nostro convivere civile. Perché dico in tutti i campi? Il sociale, la cultura, lo sport, i vari campi, le attività economiche. Ebbene, in tutti questi ambiti vi sono sempre delle eccellenze e devono essere a noi stessi, ma se mi permettete ai nostri giovani, io ho quattro figli e penso loro naturalmente al futuro, è il loro. Ebbene, questa mercoledì passato, l'altro giorno, che al Teatro Dal Verme abbiamo dato questi premi. Una volta erano tutte medaglie d'oro, adesso siamo in un momento di controllo della spesa e quindi il numero delle medaglie d'oro è stato limitato alle persone fisiche che hanno meritato questo. Ad altri abbiamo dato delle targhe e delle pergamene, ma io credo che non vi sia un valore diverso, non è il valore penale, è il significato di un territorio che dice grazie ad alcuni propri concittadini. Ebbene, le diverse candidature, ma intanto c'è una categoria che è alla memoria, c'è a coloro che ci hanno lasciato, ma dobbiamo dire grazie per quello che nella loro vita hanno fatto. Mi viene in mente Claudia Bado, grande direttore d'orchestra, Mariangela Melato, sono due tra i riconoscimenti dati quest'anno. In passato ricordo Enzo Tortora, al quale abbiamo anche dedicato il centro congressi di Via Soderini, dove vi è una grossa concentrazione di uffici della provincia. Tortora, lo ricordiamo, è stato un esempio nella lotta, nella battaglia per la verità. E io credo che a Enzo Tortora noi dobbiamo dire veramente un grazie tutti i giorni che ci alziamo, perché è una battaglia per la libertà, per la giustizia, per la dignità umana, quello che quest'uomo ha fatto. Ma ricordo anche Luigi Calabresi, il commissario che è stato barbaramente ucciso. Abbiamo dato un riconoscimento a Marco Biagi e diversamente a Sergio Bonelli, chi come me legge Tex da troppi decenni non poteva non farlo, ovviamente. Le persone, faccio alcuni nomi, ma non sono solo questi, poi faccio anche una piccola aggiunta. Penso a Diego Abbatantuono, al musicista Ludovico Einaudi, al prefetto di Milano, un grande cultore anche, tra le altre cose, della storia di Garibaldi, il prefetto Paolo Tronca, alla stilista Luisi Beccaria, a Giuseppe Guzzetti che è presidente della fondazione Cariplo e di tutte le fondazioni italiane, è stato presidente della regione Lombardia, grande uomo non solo di finanza ma anche grande politico. E poi altri, Adriana Asti, molti altri. Nel tempo ricordo Gerry Scotti, Cesare Cadeo, Gualtiero Marchesi e poi le associazioni, le associazioni che poi sono quella realtà di volontariato che fa ricco il nostro territorio. Quest'anno abbiamo premiato Cuore Parole, è un'associazione che opera molto sui bambini, sui ragazzi, una forte lotta non solo contro il bullismo, nelle sue diverse forme, ma anche nell'insegnare il rispetto delle regole, il rispetto della legalità, il rispetto sempre della persona in se stessi e negli altri. E poi ancora FAES, famiglia e scuola, quindi tutto ciò che riguarda la crescita, l'educazione, negli anni passati mi viene in mente un nome, mi è particolarmente vicino, e sono i cameristi della scala. E poi ancora un premio quest'anno ai taxisti, è una categoria che fa servizio a tutti noi, e tra l'altro in situazioni anche difficili di notte non ne parliamo, e a tutti i sindaci della provincia di Milano, 134, perché il sindaco è la prima linea, il front office, è quello a cui ti rivolgi, soprattutto nei piccoli centri, se hai veramente bisogno bisogno di, in qualunque campo, di attenzione e di una parola che sia di conforto. E infine il premio intitolato Enzo Baldoni, dedicato a chi? Ai fotoreporter, ai giornalisti, agli inviati sui teatri di guerra, dove il cittadino viene informato di che cosa avviene. Abbiamo iniziato a chi? Ai canale. Alessandro, ai giornalisti, con un po' le di un po' le, a chi? No, non ho non è. È un po' la vita, anche un po' le d'accusa, che? Io non ho a chi? No, non ho capito. Si, sì, è un po' le. a chi? Ai conforto, alessandro, realitore e mamma, Alfredo? No, non ho capito. Se ne vidi? No. Non ho capito.